Musica Crisi in regione, Bardi a Roma per un vertice pomeridiano con Fratelli d'Italia e gli altri partiti del centrodestra per ricucire gli strappi. Sullo sfondo la minaccia di chiusura della legislatura con la mozione di sfiducia delle minoranze. Tornano ad aumentare i ricorsi presentati mentre il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fissa nuovi obiettivi. Stamane cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziero del Tar, nonostante le ormai croniche carenze d'organico, in aumento la produttività della giustizia amministrativa lucana. Intagini in corso sui due incendi che ieri a breve distanza hanno interessato una pista di go-kart e l'area della Expa Mafia a Maratea. Per quest'ultimo caso i Verdi Lucani prospettano il rischio di bomba ecologica. Bollette più salate per i Lucani e la fotografia scattata dall'osservatorio prezzi e tariffe di cittadinanza attiva nella giornata mondiale dell'acqua rilevato un incremento della bolletta idrica rispetto al 2020 del 13%, intanto da ieri 11 comuni del Vultore senza acqua dai rubinetti. La torre Guevara presto tornerà completamente visibile, partiti oggi i lavori per riqualificare l'area, edificio scolastico che attualmente nasconde il monumento sarà presto abbattuto. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con informazione sulla nuova TV. In primo piano c'è la politica Tavolo Romano. Questo pomeriggio per il presidente Bardi che incontrerà nella capitale gli esponenti di Fratelli d'Italia e dei partiti lucani del centro-destra per cercare di ricucire lo strappo e mettere la parola fine alla crisi politica in regione, non escluso che il governatore possa avere anche un faccia a faccia con la leader nazionale Giorgia Meloni intanto a pesare sull'incontro e la mozione di sfiducia presentata dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Donato Carbonella. Sarà un tavolo decisivo quello che nel pomeriggio a Roma ospiterà il vertice di centro-destra organizzato da Lega e Forza Italia per cercare di ricomporre la coalizione di centro-destra dopo la nascita del Bardi Bis. La nuova giunta regionale infatti sconta l'assenza di Fratelli d'Italia, non escluso che il governatore possa avere un faccia a faccia anche con la leader nazionale Giorgia Meloni. Donzelli, Caiata e Quarto chiederanno conto della mancata presenza inciunda dei Meloniani in un confronto che dovrà tener conto della mozione di sfiducia presentata da PD e 5 Stelle. Un coltello dalla parte del manico per i Meloniani che in assenza di atti concreti saranno costretti a votare la sfiducia in aula. Un'eventualità che tanto Lega quanto Forza Italia vorrebbero scongiurare mettendo sul tavolo le dimissioni di Acito e Bellettieri in favore di due esponenti di Fratelli d'Italia. Ponti vicini al presidente riferiscono che il governatore è pronto ad ascoltare i partiti e se Bardi Ter dovrà essere non potrà che nascere in armonia con le compagini politiche che hanno vinto le ultime elezioni. Viceversa, il presidente potrebbe difendere le sue ultime scelte e accettare l'esito della prova dell'aula. Dove ciascun consigliere sarà chiamato a prendersi la responsabilità di staccare la spina alla consigliatura o a mettere in campo qualche scamotage per azzoppare la mozione di sfiducia immaginando di vivacchiare fino alla fine del mandato. Incidente ferroviario stamane nei pressi della stazione Potenza Centrale nel capoluogo di Regione. Per cause in corso di accertamento un uomo anziano è stato urtato da un convoglio in transito che lo ha scaraventato qualche metro. Più avanti l'urto ha provocato ferite gravi all'uomo che è stato subito trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo di Potenza. La circolazione dei treni è stata interrotta per qualche ora. Adesso è ripresa. Cambiamo argomento. Nonostante le ormai croniche carenze d'organico in aumento la produttività della giustizia amministrativa. In Basilicata e quanto emerso durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Tarra tornano ad aumentare i ricorsi presentati mentre il piano nazionale di ripresa e resilienza fissa nuovi obiettivi. Sentiamo. Fabrizio Di Vito. Le carenze d'organico continuano ad essere un problema risolto. Mancano due magistrati e il 30% del personale amministrativo rispetto alla pianta organica. Ma in ogni caso nel 2021 la produttività del Tarra di Basilicata si è mantenuta su livelli adeguati facendo segnare numeri in miglioramento sia sul fronte delle pendenze che per quanto riguarda i ricorsi definiti. Il tutto in un contesto caratterizzato dalle nuove sfide previste dal PNRR che prevedono entro la metà del 2024 una riduzione del 25% del numero di cause pendenti a fine 2019. Sono questi temi principali emersi durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale tornata a svolgersi in presenza dopo lo stop causato dalla pandemia. A tracciare un bilancio degli ultimi 12 mesi è il presidente Fabio Donadono. Il bilancio comunque alla fine è soddisfacente, ritengo pienamente positivo, fermo restando che la parola ultima su questo punto spetta non a noi che offriamo il servizio ma agli utenti di questo servizio. Gli obiettivi che ci eravamo posti sono stati raggiunti perché si è sostanzialmente eliminato l'arretrato presso questo Tribunale, presso questo ufficio, non solo ma si sono riusciti anche a gestire le nuove sopravvenienze, i processi più recenti proposti sono stati, almeno quelli urgenti per legge o per impulso delle parti, sono stati decisi. Edilizia, appalti pubblici e ambiente, i settori che portano alla maggiore conflittualità in campo amministrativo. Il contenzioso presso il TAR Basilicata è un contenzioso molto diversificato, non ci sono dei particolari filoni, tolto quello delle ottemperanze per l'esecuzione dei giudicati di equa riparazione che comunque sono molto diminuiti, fortunatamente. Diciamo che a parte l'edilizia che un po' costituisce una prenovinanza a livello nazionale, il contenzioso prevalente davanti al TAR riguarda tutte materie importanti socialmente ed economicamente, come per esempio gli appalti per opere pubblici e servizi pubblici, le autorizzazioni in materia ambientale e per le energie rinnovabili. Nel 2021 sono 595 ricorsi presentati contro i 549 dell'anno precedente. Il netto aumento, quelli definiti che passano da 725 a 790, ne consegue una netta riduzione dei ricorsi pendenti che al 31 dicembre 2021 si attesta a quota 502 contro i 691 del 2020. E sono arrivati da poco in redazione i dati odierni relativi all'emergenza sanitaria, continuo all'incremento di nuove positività al Covid e di decessi nella nostra regione. Nell'ultimo bollettino segnalate tre morti a perdere la vita una persona residente a Brienza e due persone residenti in Puglia su 4902 tamponi processati nella giornata di ieri. 1286 sono risultati positivi nella stessa giornata, registrate 651 guarigioni, in totale sono 106 le persone attualmente ricoverate, 62 al San Carlo di Potenza, di cui due in terapia intensiva e 44 al Madonna delle Grazie di Matera. Anche qui due persone in terapia intensiva. La task force regionale comunica che nella giornata di ieri sono state effettuate 622 vaccinazioni. A ieri l'84,5% dei Lucani ha ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid, il 79,7% la seconda e il 63%. Anche la terza. Indagini in corso sui due incendi che ieri, a breve distanza, hanno interessato una pista di go-kart e l'area della Expa Mafi a Maratea, in quest'ultimo caso al quale si riferiscono le immagini. C'è chi sta prospettando il rischio di bomba ecologica, considerato che le fiamme sono partite da un canneto per poi farsi strada fin dentro l'area in cui sorgono i capannoni dell'azienda avvivaistica, abbandonata da anni e ridotta a discarica abusiva, con rischio inquinamento da pesticidi e amianto. Il rogo è stato prontamente sedato dai caschi rossi, ma la bonifica del sito, attesa da anni, rischia di slittare ancora, da chiarire le cause delle fiamme. Dopo l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio Turistico di Maratea, Biagio Salerno, arrivano anche le sollecitazioni del Movimento Europa Verde. Non chiamiamolo incidente, si tratta di un disastro annunciato, evidenzia l'esponente dell'esecutivo del partito Manuel Chiappetta. La comunità di Maratea è stanca di essere mortificata, la regione non ci può trattare come sprovveduti. L'area della Expa Mafi, conclude l'esponente politico, è una bomba ecologica pronta a scoppiare. La zona è enormemente popolata, urge sempre più. Una programmazione di aria vasta e un interessamento politico serio. Ricorre oggi la giornata mondiale dell'acqua. In Basilicata, secondo i dati pubblicati dall'Osservatorio di Cittadinanza Attiva, si calcolano perdite idriche, pari al 61% nel Potentino e al 48% nel Materano, con effetti anche sulle bollette dei Lucani aumentate nel 2020 del 13%. Ce ne parla Michelangelo Russo. Bollette più salate per i Lucani è quanto emerge dall'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva che nella giornata mondiale dell'acqua ha pubblicato un focus dettagliato, rilevando un incremento della bolletta idrica rispetto al 2020 in Basilicata del 13,5%. Ammonta infatti a 429 euro la cifra spesa nel 2021 da una famiglia lucana tipo con tre componenti e un consumo annuo di 192 metri cubi, tuttavia più bassa se paragonata alla media nazionale che si attesta intorno ai 460 euro. Ma sono proprio Matera e Potenza le città che insieme a Savona hanno visto subire il più forte incremento. Negativi anche i dati sulla dispersione idrica, se a livello nazionale va dispersa il 36% dell'acqua immessa, in Basilicata Potenza e Matera perdono rispettivamente qualcosa come il 61 e il 48% di risorsa idrica. Fronte aperto ormai da anni su cui il governatore Vito Bardi si impegna ad intervenire per mezzo delle risorse del PNRR, migliorando le infrastrutture per la conservazione e la distribuzione della risorsa, intervenendo sulle reti idriche e fognarie, sui problemi strutturali e sulla gestione dei grandi invasi e promuovendo, scrive in una nota, buone pratiche di risparmio idrico, ritenute importanti in un'epoca caratterizzata da imponenti cambiamenti climatici. Tema centrale quest'anno dell'iniziativa promossa dalle Nazioni Unite. Restando al tema dell'acqua di Sagi, a partire da ieri sera e fino a giovedì 24 marzo, legate all'interruzione dell'erogazione idrica in 11 comuni del Vulture Melfese, maggiori problemi a partire da oggi alle 14 e fino alle 7 del mattino successivo per tutti i giorni. Fino a giovedì 24 l'acqua potrebbe mancare a Melfi, tranne centro storico e zona industriale di San Nicola, rionero in Vulture, tranne frazione di Monticchio e zona C10, a Tella, Barile, Ginestra, Ripacandida, Filiano, tranne le frazioni Dragonetti e Scalera, e nelle zone rurali di San Fele, mentre sospensioni notturne sono previste nei comuni di Lavello, Montemilone e Palazzo San Gervasio. In questi ultimi due comuni potrebbero esserci anche solo dei cali di pressione. Diverse le ripercussioni sulla quotidiana attività, l'Istituto Gasparrini per esempio è stato costretto a sospendere i corsi pomeridiani, chiuso il convitto che ospita una settantina di studenti. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A fra poco. La ITMSRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione chiave in mano di capannoni in struttura metallica, il legno lamellare, cemento armato e celle frigorifera d'uso industriale. Assistenza post vendita qualificata, sopra luoghi gratuiti, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. Per informazioni 392 02 08 806 Capital Fair, specialisti nella lavorazione dell'acciaio tondo per cemento armato e gabbie per pali di fondazione. Materiali di qualità e attrezzature all'avanguardia per soddisfare ogni tipo di esigenza. Lavori di precisione per garantire alti standard qualitativi. Lo staff sempre aggiornato al vostro servizio. Capital Fair, tradizione e innovazione da oltre 30 anni. Altamura, via Gravina 139. Capital Fair.it E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro Tg con i temi del lavoro. La Basilicata a maglia nera nelle politiche occupazionali dei giovani. Solo il 38% dei nostri laureati trova lavoro restando sul territorio per tortorelli della Will. Numeri allarmanti. La soluzione per il segretario del sindacato è implementare la rete tra gli istituti tecnici, le università e i grandi player. Isabella D'Andrea. L'ennesima maglia nera per l'occupazione giovanile destinata alla nostra regione, il mancato protagonismo dei giovani nel mercato del lavoro lucano è allarmante. Per Eurostat la Basilicata si colloca agli ultimi posti nelle classifiche internazionali per laureati occupati, il 38,3% a fronte di una media italiana del 63% ed europea dell'85%. A sostenerlo è il segretario generale della Will Lucana, Vincenzo Tortorelli, per il quale in un mercato in continua evoluzione diventa determinante disegnare per tempo in stretta collaborazione con il mondo imprenditoriale i profili richiesti. È necessario dunque, secondo la Will, creare attraverso gli istituti tecnici, le università e i centri di ricerca un ecosistema industriale capace di rapportarsi alle esigenze dei player presenti, Stellantis, Indra, Ferrero, Barilla, Itachi Rail e di attrarne altri. Gli ITS con un'occupazione dei suoi studenti pari all'83% rappresentano un'opportunità importante poiché mettono in connessione le politiche di istruzione con quelle industriali. Il sistema degli ITS, se ben articolato, continua Tortorelli, diventa un patrimonio per il rilancio economico in termini di nuova e più qualificata occupazione. La Basilicata, aggiunge il segretario della Will, ha guardato troppo a lungo al cedimento di alcune delle sue principali strutture portanti, la perdita di capitale umano, la fuga verso le università del nord. La nostra regione, conclude Tortorelli, è il primato negativo per tasso di emigrazione degli studenti universitari, superata persino dalla Valle d'Aosta, che a meno di un quarto della popolazione è residente in Basilicata, è dunque evidente l'esigenza di rilanciare il tema delle politiche giovanili. Incidente ieri sera allo svincolo di Vietri sul raccordo sicignano Potenza, coinvolto un mezzo pesante il cui abitacolo, dopo essere sbandato, si è girato finendo a sbattere contro il guardrail. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, l'impatto oltre a danneggiare la cabina ha generato una grossa perdita di carburante. Il conducente con ferite lievi è stato assistito da un vigile del fuoco libero dal servizio che transitava sul raccordo, poi l'uomo è stato trasportato dai sanitari in codice giallo al San Carlo di Potenza, traffico bloccato per due ore. Al via da oggi a Potenza i lavori di riqualificazione della Torre Guevara, l'edificio scolastico che attualmente nasconde il monumento, sarà presto abbattuto, sarà così restituito alla città un pezzo di storia. Lucia Petrafesa. Se fino ad oggi per un turista scovare la Torre Guevara era pressoché impossibile, a stretto giro non sarà più così. Sono cominciati oggi i lavori per restituire alla città e ai suoi visitatori l'antico monumento. L'intervento di riqualificazione dell'area prevede la demolizione dell'edificio scolastico di Piazza Bonaventura. La struttura, dismessa da anni, nasconde completamente la torre. La sua demolizione, prevista dopo Pasqua, consentirà finalmente all'antica torre di essere visibile anche da via Pretoria. Oggi è una bella giornata per la provincia di Potenza e anche per la città di Potenza, perché, come dicevi, si restituisce un'area alla città importante, che è quella della Torre Guevara, con l'apertura dovuta anche alla demolizione di questa scuola. Quindi un finanziamento di un milione e due messo a disposizione della provincia, che chiaramente oggi prende il via con i lavori, che ci auguriamo nel giro di un anno potranno essere realizzati e magari di ritrovarci da qui a breve per poter inaugurare questo spazio importante. A realizzare i lavori saranno imprese lucane. Questa è un'altra notizia positiva, anche perché dopo questa fase di pandemia, riprendere chiaramente con mettere in moto l'economia è una cosa importante anche per loro, sicuramente. Al posto dell'edificio scolastico sarà costruita una struttura polifunzionale funzionale per la fruizione del monumento con la realizzazione di una piazza che sarà luogo di incontro e anche di racconto. La realizzazione di una grande piazza che racconterà un po' la storia di questa costruzione e quindi le vicissitudini anche che l'hanno legata a Potenza e le sue trasformazioni, a iniziare dalla Torre Longobarda, il castello, il convento dei frati che insediarono la prima infermeria, la chiesetta dedicata a San Carlo e quindi la nascita del primo ospedale di Potenza, appunto il San Carlo, come ancora adesso è denominato il nostro nosocomio. Sarà un lavoro di riqualificazione urbana, la creazione di un grande vuoto che però è significativo e la realizzazione di un edificio nel quale speriamo di poter installare delle attrezzature innovative con le quali si possono fare esperienze virtuali di visita di un monumento che purtroppo oggi non c'è più. Un progetto complesso che rientra in un programma regionale volto alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Fa parte di un programma nella linea che la Regione ha dedicato alla riqualificazione dei monumenti e quindi essenzialmente questo porta a mettere la Torre Guevara di nuovo all'interno di un tessuto urbano di maggiore prestigio, di maggiore decoro e di maggiore visibilità. Il Comune di Lauria ha conferito la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, la senatrice a vita, sopravvissuta all'olocausto nazifascista, ha scritto al Sindaco Gianni Pittella Un onore per me. Aver scelto di collegare la cerimonia di conferimento pubblico con la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, evidenzia Segre, non può che vedermi particolarmente partecipe non solo per la mia condizione di sopravvissuta alla Shoah, ma anche di presidente di una commissione che si occupa di contrasto di ogni forma di intolleranza e razzismo. Purtroppo, per ragioni di età e salute e sicurezza, la senatrice non potrà essere presente alla cerimonia. Dopo un periodo come quello da cui stiamo, faticosamente cercando di uscire in una situazione internazionale segnata da una drammatica guerra in Europa, conclude la senatrice, abbiamo tutti bisogno di pace e serenità, come mi auguro possa concretizzarsi quanto prima. Restiamo in tema l'integrazione e l'accoglienza. Oggi più che mai in questo tempo di guerra diventano pilastri portanti dell'insegnamento da impartire ai ragazzi nelle scuole, l'associazione potentina Le Rose di Atacama ha concluso il suo ultimo progetto rivolto alle giovani generazioni con la presentazione del libro Afroitaliani, opera prima di un talento emergente. Ce ne parla Rocco Romanelli. Insegnare ai bambini fin dai primi anni della scuola l'importanza dell'antirazzismo diventa fondamentale in un momento storico di scontro tra popoli e concezioni dei sistemi che governano il mondo. È il senso alla base di uno degli ultimi progetti realizzati dall'associazione Le Rose di Atacama, promosso in occasione della diciottesima settimana contro le discriminazioni. È un progetto veramente che si inserisce nell'ambito della diciottesima settimana contro le discriminazioni, organizzato da noi insieme a Lunar, l'Ufficio Nazionale contro le discriminazioni. Abbiamo iniziato il 15 con un'attività laboratoriale nella scuola di Marsico Nuovo, la Benedetto Croce, insieme alle terze medie e insieme ai minori stendono accompagnati che abbiamo in accoglienza nella struttura di Marsico Nuovo per continuare il giorno dopo con un workshop sull'imparare l'antirazzismo con una counselor. L'abbiamo svolto online ed è durato due giorni. Poi il 17 c'è stata la presentazione del libro di un autore di seconda generazione ed oggi concludiamo con la presentazione del secondo libro, sempre di una scrittrice di seconda generazione e con la presentazione dei lavori che sono stati svolti il 15 con le scuole e i minori stendini non accompagnati. Per noi questo progetto è importante perché serve per diffondere, divulgare e confrontarsi sulle tematiche delle discriminazioni e abbiamo visto anche che c'è stata una discreta partecipazione dei giovani quindi a noi questo interessa principalmente formare proprio i giovani, sin dalle scuole, sulle tematiche delle discriminazioni. L'iniziativa, rivolta alle giovani generazioni, è partita con il coinvolgimento degli studenti della scuola media Benedetto Croce di Massico Nuovo per poi passare al workshop e alla presentazione dei lavori realizzati dai minori non accompagnati. La settimana si è conclusa con l'evento più importante, la presentazione del volume della giovane scrittrice Alimatu Sal, nata a Sassari da genitori senegalesi e bergamasca d'adozione. Alimatu nella sua opera, prima dal titolo Afroitaliani, racconta la storia di Penda, una donna italiana di origini africane con cui dà voce alle seconde generazioni. L'esigenza era quella di raccontare comunque un po' la mia realtà e quella di tante altre persone con la mia stessa storia, per far capire che alla fine non siamo poi così tanto stranieri, ma siamo parte di questa realtà. E poi ci sono i problemi che i tanti stranieri riscontrano sul territorio italiano, anche quelli vissuti da chi, come lei, è nato e cresciuto in Italia. Tipo l'acquisizione della cittadinanza, per esempio, o comunque magari domande strane durante i colloqui di lavoro o cose simili. Si spiega col fatto che appunto l'Italia non è ancora molto aperta a questa nuova realtà. Magari di essere viste con uno sguardo diverso e al governo soprattutto di accoglierci come cittadini italiani, perché alla fine facciamo parte anche noi dell'Italia. E per questa edizione è tutto. Prossimo appuntamento con il TG Flash delle 17. Grazie per essere stati con noi e buona giornata. Grazie.